Il marchio del Corallo di Alghero prosegue la sua strada di affermazione a tutela della qualità dell'oro rosso, vanto dell'artigianato e della pesca locali. Il logo di certificazione del Corallum Rubrium sarà presto esposto con targhe in plexiglass all'esterno delle 17 botteghe artigiane che hanno aderito all'iniziativa. Il progetto, guidato dall'amministrazione algherese, ha dunque avuto un ottimo riscontro sulla base di una serie di programmi volti a tutelare l'autenticità del prodotto e la sua promozione come emblema della storia e della cultura algherese e immagine della stessa riviera del Corallo. Fra l'iniziativa in questo senso, il prossimo lunedì 5 dicembre, dalle 15 nella sala conferenza Lo Quartè, con l'assessore comunale Natascia Lampis, si metterà a punto un'altra serie di importanti passaggi del percorso organico e condiviso che coinvolge gli operatori del Corallo. Si discuterà del piano strategico di comunicazione e studio dell'immagine e coordinata del marchio. In questo senso, l'amministrazione ha già provveduto ad avviare l'iter di affidamento del servizio attraverso la pubblicazione dell'avviso nel sito internet istituzionale del Comune di Alghero. Nello stesso incontro si parlerà del progetto CF Interreg Marittimo, della definizione delle azioni riguardante la promozione del marchio, che partiranno nel gennaio 2017, e di altre questioni ancora. L'incontro vedrà la partecipazione degli operatori commerciali e di partner di progetto, agenzia Laore e Parco di Portoconte, le associazioni di categoria, con il coinvolgimento di tutti i protagonisti della filiera e in particolare dei pescatori del Corallo.